Scusate, ma oggi voglio farvi un tutorial di una canzone che secondo me è attualissima. Iero Pelou e i grandi Litfiba mascherina. Ah! Sinceramente a me sta mascherina ma quasi... Speriamo di buttarle via presto. Ok, perfetto. Di questo brano sinceramente non c'è tanto da dire, ma perché? Non perché sia brutto. Probabilmente non è stato uno dei brani più belli dei Litfiba, però ha un gru che a me piace parecchio e magari lo vedremo anche in qualche variante diversa. Vi ricordo che qui sotto trovate il PDF dello spartito completo. L'inizio della canzone troviamo una batteria elettronica che vede il nostro Charleston in quarti, cassa sull'uno e sul quattro, non c'è rullante. Ripete due volte questa misura, dopodiché entrerà la batteria suonata per davvero. Io è sempre quella che prediligo, non so perché. Due misure che vedono Charleston sempre in quarti, cassa sull'uno, sul due troviamo primo ottavo di rullante secondo di cassa, sul tre troviamo due ottavi di gran cassa, un quarto di gran cassa sul quattro. Misura successiva stessa cosa ma sul quattro troviamo un colpo di rullante. Brano che viene suonato a 118 bpm noi lo vediamo a 90. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Parte il nostro groove di base che è la stessa cosa, solo che sul quattro abbiamo il primo ottavo sul rullante e il secondo con la gran cassa. Allora in effetti da quello che si sente sembra non variare per tutta la canzone, se non giusto qualche misura qua e là. Però il groove fisso è questo e non ci sono neanche i fill. Intanto vediamo il groove e poi magari vi do qualche consiglietto. One, two, three, four. Proviamo sette ripetizioni di questo groove ma appena prima c'è un groove che vede appunto sempre il nostro charleston sui quarti, cassa sull'uno, rullante sul due, sul tre due ottavi di gran cassa e sul quattro un colpo di rullante. La cosa che varia sul ritornello è che anziché suonare sul charleston ci spostiamo sul ride, ma attenzione viene suonato in levare. Non abbiamo più il batter come suonavamo sul charleston, ma suoniamo in levare e sulla campana. Il groove non varia. Te lo faccio sentire. Two, three, four. La struttura delle strofe di ritornello la vedete scritta sulla partitura. Dopo l'ultimo ritornello indicato sulla prima pagina troviamo due misure diverse. Mamma mia, strano, un caso raro. Sulla prima suonerà solo ed esclusivamente la gran cassa e vede la stessa figura ritmica che suona appunto sulle altre misure, a differenza che non viene suonato il rullante e neanche il charleston. La misura successiva sempre senza charleston vede una pausa sul primo quarto, sul due vede primo ottavo di rullante e secondo di cassa, sul tre due ottavi di cassa, sul quattro primo ottavo di rullante e secondo di cassa. Ve le suono insieme. Stessa figura si ripete nelle due misure successive in cui però viene inserito il charleston. Sempre in quarti. Bene o male questa è la struttura del brano, appunto non ci sono grosse difficoltà. Vi suggerisco magari una variante che può rendere un po' appunto diverso il brano. Qui sotto trovate appunto la variante scritta. Proviamo la prima misura del gru base normale. Sulla seconda anziché inserire la cassa sull'uno viene messa sulle vare dell'uno. Sul quattro chiudiamo con il quarto di rullante senza la cassa sulle vare. Ve la faccio ascoltare. 1, 2, 3, 4. Ok è un po' diverso ma secondo me ci può stare e intanto magari lo rendete meno monotono. Anche con questo tutorial siamo arrivati alla fine. Non mi resta che augurarvi un buon divertimento. Se avete domande o commenti scrivete tranquillamente qua sotto. Se non lo avete fatto ancora iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove pubblicazioni. Ci vediamo prestissimo. Buon gru. Ciao. 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 Ciao.